Accelerare la consegna dei carri armati Leopard è uno degli argomenti cruciali di discussione alla conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Al suo arrivo al summit, in programma fino a questa domenica, il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius ha tenuto una breve conferenza stampa. A chi gli ha chiesto se è così difficile convincere gli alleati a inviare più armi in Ucraina, il ministro ha risposto per la domanda a rivolta ai paesi alleati e non a Berlino. Ovviamente lo facciamo, ogni giorno. Concerno i leopards, avremo un prossimo tempo quando si chiama l'Ucraina? I leopards germani saranno in Ucraina in ultima settimana settimana di marzo. Presenti al summit, una trentina di capi di Stato e di governo, un centinaio di ministri della difesa di tutto il mondo. In agenda la guerra in Ucraina, i rapporti tra Washington e Pechino e il tema della sicurezza nucleare. Grande assente la Russia con i suoi diplomatici. Grazie. Grazie.